Giucca Scasella Ospite della puntata di Verissimo, in onda sabato 10 marzo, Giucca Scasella ha parlato della sua intenzione di tornare all'isola dei famosi 2018. Il naufrago ha dovuto fare i conti con un infortunio che lo ha costretto a lasciare il reality. A Silvia Toffanin, però, ha confidato, sto benissimo e voglio tornare sull'isola. Scasella attende il verdetto dei medici riguardo alla sua condizione di salute. L'ex naufrago dell'isola dei famosi 2018 ha assicurato, sono un leone, sto benissimo e voglio tornare sull'isola. Ha spiegato di stare attendendo il verdetto dei medici. I risultati dei controlli da lui fatti dovrebbero essere pronti tra pochi giorni. Lunedì ho i risultati medici e se sto bene torno là. L'infortunio causato da una caduta in barca Giucca Scasella ha spiegato come è avvenuto l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il reality. Ho preso una brutta botta in barca e mi sono rotto una costola, ma mi dispiaceva troppo abbandonare il reality, così ho nascosto per un po', il dolore. Comunque se mi diranno che sto bene e la costola si è calcificata io torno in Honduras. Scasella scrive il nome del vincitore dell'isola dei famosi 2018. Infine, il noto illusionista ha voluto mettersi alla prova. Ha scritto su un foglio inserito poi in una busta sigillata il nome del naufrago che secondo lui vincerà all'isola dei famosi 2018 e ha consegnato il verdetto a Silvia Toffanin. La busta verrà aperta nel corso della puntata speciale di Verissimo, dedicata al reality di Canale 5.